Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida a breve, io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò dove si trova la statuetta di Kalus. Quello che vi basterà fare è avviare recensione risolutezza, dopodiché vi basterà avanzare fino a quando non avrete ucciso l'incubo implaccabile e interagito con la console. Una volta disattivate le turbine vi consiglio di fare prima pulizia e poi di prendere la statuetta così da non rischiare di morire dai paramiti. La statuetta di Kalus si troverà in alto a sinistra e una volta presa vi basterà andare a Elm, posizionarla e otterrete il trionfo fan numero 1 e l'involucro Eidolon. Come ultima cosa ragazzi dato che ora sono tutte disponibili le statuette di Kalus ci farò un video unico di tutte quante e dove si trovano così da evitarvi di cercarle con tanti video separati. Quindi siete aggiornati e detto questo spero di esservi stato d'aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Grazie!